ciao ciao tesoruccio come va? benvenuto a questo video di ASMR in italiano che mi piacciono tantissimo fare i video in italiano peccato che fanno due views soltanto quindi se sei italiano e vuoi più video in questa lingua like e commentare qua sotto e prima di iniziare questo video per che tu possa addormentarti subito 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 voglio dirti che se vuoi delle maliente urlo come questa se vuoi maliente come queste super super ficche vai a pompli.com e con il mio codice di sconto potrai avere non solo il 15% di sconto ma avrai anche invii gratuiti quindi non devi pagare per l'invio invio internazionale a tutte le parti del mondo gratuitamente quindi fino a questo mese adesso si iniziamo con questo video allora oggi ho portato un po' di suoni che a me fanno addormentare rapidamente e mi piacciono da morire spero anche a te mi piace tantissimo questo suono senti che mi viene subito subito il formicolio dietro le schiena da quando li ho scoperti questi qua io uso molto spesso perchè mi piacciono tanto ho sapato Sì, 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 sì. Un suono a dir poco delizioso. Cosa ne pensi? Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, 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 sì, sì. 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 Sì, sì.